Se mi chiami il vero presidente di Sarraio, se mi dice che sono licenziato, allora io qua non metterò più piedi. E' arrivato che mi ha detto lui, allora non conta niente. Quindi tu continuate ad essere mister? Sì. Vi dovete dare la stretta di mano, il vecchio mister e il nuovo mister, forza. Dai giù, mi servisci.